Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale interamente dedicato al cinema. Per continuare la nostra scalata verso gli Oscar 2022, in questo video farò un mio commento su Dune, o Dune, Dune, insomma chiamatelo come volete. Ebbene sì, arrivo in ritardo perché questo film ormai è uscito mesi e mesi fa, ma io l'ho recuperato da poco su Amazon Prime e visto che è candidato a ben 10 premi Oscar, voglio parlarne in questa serie di video. Premetto che non so bene come sentirmi nei confronti di questo film, ma adesso capirete perché. Direi di partire subito con la trama. In questo film noi spettatori veniamo proiettati in questo futuro molto molto distante da noi, in cui il duca Arteides, sì, credo si pronunci così, accetta la gestione di Dune. Cos'è Dune? È un pianeta completamente sabbioso e molto pericoloso, ma è particolarmente importante perché è l'unica fonte della spezia, ossia questa sostanza in grado di allungare la vita e fornire eccezionali capacità mentali. Cosa succederà? Lo scoprirete solamente guardando il film perché in questo video non ci sono spoiler. Ma iniziamo subito con il mio commento personale, quindi per favore siate gentili perché mi rendo conto che sto parlando di un film che è piaciuto a tantissime persone, ma a me invece ha messo in difficoltà. Cioè io quando ho visto questo film mi sono sentita particolarmente in difficoltà, sia a seguirlo sia adesso a parlarne. E ho cercato di capire da cosa nascesse questa mia difficoltà. Innanzitutto, da persona che non conosce nulla di questo universo, mi sono sentita particolarmente spaesata. Penso ci siano troppi nomi, troppe cose da ricordare e le cose da ricordare hanno anche dei nomi abbastanza difficili, quindi una sola visione secondo me non basta. Secondo me questo film si può apprezzare di più se si conosce già l'universo di Dune o se si è effettivamente pronti ad accogliere un universo nuovo. Io personalmente quando mi avvicino ad un universo cinematografico sento la necessità di farlo a step. Quindi va bene avere tanti personaggi, tante informazioni, ma tutte in una volta mi sono sentita un po' in difficoltà. Però per compensare queste informazioni particolarmente complesse, ho apprezzato il ritmo lento del film. Perché secondo me ti permette di assorbire, almeno in parte, le informazioni che acquisisci all'inizio del film. Come una qualsiasi cosa però ci sono ovviamente delle cose che mi sono piaciute. Innanzitutto mi dispiace non aver visto questa pellicola al cinema perché la scenografia o comunque l'aspetto visivo e le ambientazioni sono veramente spettacolari. Purtroppo ho visto questo film nello schermo di un computer e per tutta la visione non ho fatto altro che pensare mamma mia questo film al cinema sarebbe stato pazzesco. Cioè magari non ti prende la trama, può anche darsi perché ognuno ha i propri gusti. Però visivamente io penso che un film così sarà stato bellissimo al cinema. E se voi l'avete visto al cinema mi confermerete o meno questa cosa. A proposito della scenografia una cosa che ho apprezzato è che loro veramente hanno ripreso e girato quelle scene nel deserto. Io non ne avevo idea, infatti per tutto il film ho anche pensato ma chissà come hanno girato queste scene, wow hanno fatto davvero bene questo green screen. No, la maggior parte delle scene sono dei set creati apposta per il film. Sia per le scene interne sia per quelle esterne. E questa è una cosa che personalmente apprezzo tantissimo. Quindi anche solo questo dettaglio ha fatto prendere a questo film tantissimi punti in più. Poi un'altra cosa che mi ha fatto impazzire. La colonna sonora di Hans Zimmer. Io per fortuna ho visto questo film con le cuffie. Quindi avevo i brividi su tutto il corpo appena c'era qualche brano. Perché la musica è veramente bellissima. Ovviamente si sposa alla perfezione con ciò che vediamo. Ti fa entrare nel mood della storia, di questa avventura. Però ovviamente dire che Hans Zimmer fa delle colonne sonore praticamente perfette è come dire che l'acqua calda è calda. Però è un dettaglio che non si può tralasciare. Quindi dovevo assolutamente specificare la bellezza di questa colonna sonora. Passando agli attori, il cast è molto buono. Ci sono tanti attori che conoscevo. Ho apprezzato le loro performance. Anche se l'attore che non vedevo l'ora di vedere è quello che mi ha lasciato di meno. E sto parlando proprio del nostro Timothy. A me piace molto Timothy Chalamet. Lo trovo un attore particolarmente carismatico e affascinante. Ed effettivamente un volto come il suo può andare molto bene per un ruolo come quello che ha in Dune. Però non so, a livello di performance attoriale non mi ha lasciato tantissimo. Ma in realtà in generale un po' tutti i personaggi li ho trovati un po' distanti. Non sono riuscita a trovare un punto di contatto con loro. Forse perché comunque i personaggi sono davvero tanti. È comunque un film corale. Non segue la storia di un solo personaggio. Ok, c'è Timothy che è il protagonista, quello sì. Però comunque ci sono tantissimi personaggi. Chi ha visto il film lo sa già. E Timothy, non lo so, l'ho trovato un po' freddo. Non lo so, non mi ha emozionata come speravo. E come mi ha emozionata in altri film. Quindi ecco, diciamo che ci sono queste cose che mi sono piaciute, queste cose che mi sono piaciute un po' meno. Però tutto sommato è un film da vedere. Quando ci sarà la parte 2 l'andrò sicuramente a guardare. E questa volta al cinema, perché un film così deve essere visto al cinema. Però non ho ancora capito se mi è piaciuto oppure no. Cioè, se dovessero dirmi ti è piaciuto, io risponderei con... Ma, sì! Non mi ha convinta, ma non mi ha neanche fatto schifo. Cioè, non so come spiegare questa sensazione. Comunque mi sono confrontata anche con altre persone. E ci sono persone che l'hanno adorato tantissimo. Io sono contentissima, perché comunque è bello quando un film ti soddisfa. Altre persone invece che hanno trovato delle difficoltà, come le ho trovate anche io. Fatemi sapere voi se questo film vi è piaciuto. Chi invece ha letto il libro, mi faccia sapere nei commenti se questa è una buona trasposizione cinematografica o meno. Io vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Così, diretta, yeah! Quindi me lo sono perso al... ...molto distante da noi. L'ho sbavata! L'ho sputato! Molto distante da noi. È la parola distante che mi fa sputacchiare. Cioè, non lo so. Molto distante da noi. L'ho sputato di nuovo. Mentre un pianeta. Coooooo! Aiuto!